E quindi un binomio tecnica freddezza che lo porterà ad effettuare questa giocata, vedete come resiste alla carica avversaria, qui freddo nell'effettuare la giocata giusta, lo vedete lì, ricevere questa palla, basso si gira, palla sempre attaccata al piede, passaggio in profondità. Ebbene sì, è arrivato il momento di parlare del Diablito, Claudio Eceverri e no, non lo faccio perché mi viene richiesto costantemente ormai da mesi nel nostro gruppo Telegram, tra parentesi, vi aspettiamo, siamo più di 600, di ogni squadra si parla di calcio, scouting, analisi, vi aspettiamo e quindi no, non lo faccio per questo, ma lo faccio per scoprire se effettivamente stiamo parlando di un talento cristallino, Lo faccio anche perché è stato accostato a squadre italiane, la Juve, Inter, anche altre, a quanto mi risulta lo studieremo durante l'analisi, un classe 2006, giovane argentino del River, ragazzi, ce n'è di roba da discutere, ma prima di iniziare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche e lasciare un like al video, mi raccomando, che aiuta sempre. Passate sui miscouting, per quanto riguarda tutti gli altri social, il sito internet, per i corsi di match analysis e scouting, se volete diventare match analyst, osservatori, data analyst, abbiamo gli ultimissimi 5 posti per i corsi del prossimo mese, formazione, accesso alle offerte di lavoro nel mondo del calcio, accesso a programmi professionali, tutti i link qui in basso in descrizione. Lo stesso per quanto riguarda tutti gli altri social, ma, 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 il diablito, solo per questo, per carità. Parliamo del caro Eceveri, come dicevo, giovane che si è messo in mostra nelle nazionali under dell'Argentina, nella squadra B del River Plate, ultimamente anche in prima squadra, giovanissimo, classe 2006, 1,71 m destroso. Ma perché ne parlano tutti in maniera così entusiasta? È effettivamente un nuovo fenomeno che sta conquistando il calcio mondiale. Ho letto anche qualcuno che l'ha chiamato il Messi argentino, come se Messi fosse australiano. Ragazzi, partiamo, come sempre, dalla nostra amatissima Lavagna Tattica, che ci illustrerà, credo che in questo caso le statistiche stanno quasi a zero per un ragazzo così giovane, ma, come dicevo, la Lavagna Tattica ci illustrerà quelle che sono le sue caratteristiche tecnico-tattiche. Perché stiamo parlando di un giocatore interessante, un giocatore che, ragazzi, senza girarci attorno, ruba l'occhio. Un giocatore, un trequartista centrale, che in questa fetta di campo, secondo me, si esprime al meglio, grazie anche ad un certo tipo di freddezza, un fattore fondamentale per un ragazzo così giovane, una solida base di partenza che, durante questo 2023, ad esempio, lo ha portato a segnare nove gol e a fornire quattro assist. Qui, una realizzazione fredda, un'azione dove lui, insomma, resiste alla carica dell'avversario, conduce, quindi guadagna spazio, calcola bene quella che è la situazione e quindi un binomio tecnica-freddezza che lo porterà ad effettuare questa giocata. Vedete come resiste alla carica avversaria? Qui, freddo nell'effettuare la giocata giusta in pochi secondi, sicuramente un fattore che, ragazzi, a me ha colpito. Quindi, tecnico, fisicamente non grandissimo, ma comunque cattivello, scaltro, non è facile da fregare, per intenderci, e freddo per quanto riguarda l'ultima giocata. Ultima giocata che, ragazzi, è sicuramente un fattore fondamentale, soprattutto quando si abbina anche ad una qualità tecnica nella conduzione. Non è un giocatore, un trequartista centrale, che va lì nella zona vista in precedenza e va servito. E' un giocatore utile anche per far salire la squadra, viene spesso basso a ricevere la palla. In questo esempio, nel River B, lo vediamo scendere per far salire di diversi metri la squadra. Un tipo di giocata che lui, semplicemente, ce l'ha. Tutto ciò, ovviamente, supportato da grande dribbling. Una certa bravura nel non farsi rubare la palla dalle cariche avversarie. E' sicuramente un trequartista centrale che, giovanissimo, ha comunque dimostrato di saper essere utile dal punto di vista tattico. Anche in questo caso, lo vedete lì, ricevere questa palla a basso, si gira, palla sempre attaccata al piede, passaggio in profondità. Insomma, ragazzi, un trequartista centrale che, da quel punto di vista, garantisce, o comunque ha dimostrato di saper effettuare un tipo di lavoro che, per gli allenatori, vi assicuro, ha un certo valore. Parliamo anche delle qualità di rifinitura del ragazzo. Lo rivedete nella zona che, secondo me, gli permette di esprimersi al meglio. Qui, di nuovo, conduzione, guadagna metri, freddezza nella giocata, passaggio in verticale per il compagno che si smarca, gol per quanto riguarda, in questo caso, l'Argentina. Quindi, di nuovo, da quel punto di vista, freddo. Mi piace, per quanto riguarda la scelta della giocata, che, occhio, non è sempre perfetta, è un classe 2006, è giovanissimo, ma, a volte, sembra avere esperienza. Quindi, dal punto di vista mentale, un ragazzo che promette bene, senza ombra, di dubbio. Ma, 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 non è tutt'oro quello che luccica, perché abbiamo parlato di quello, di quell'altro, quanto è forte, quanto è bravo a fare quella cosa lì, ma, secondo me, un difettuccio ce l'ha. Non voglio parlare del fisico, non voglio parlare di altri aspetti mentali che, ragazzi, un giovane sicuramente deve migliorare, ma, secondo me, per diventare ancor più interessante, ancor più rotondo per quanto riguarda la sua qualità, deve migliorare nella verticalizzazione lunga, nel passaggio lungo, perché, di nuovo, è un giocatore che si abbassa, lo vediamo, in questo caso, scendere per prendere questa palla, tenta, spesso, giocate lunghe, in verticale, ma il risultato non sempre è soddisfacente. Per carità, parliamo di un giovane, una roba che, anche se non migliora, non fa niente, potenziando le altre, rimane un giocatore di alto livello, sempre, per quanto riguarda il potenziale, ma, considerando che ci prova, che quel tipo di visione, volendo, ce l'ha un miglioramento, da quel punto di vista io lo gradirei, perché vi faccio vedere la giocata, qui riceve palla, guardate l'idea che ci sta assolutamente con questo esterno, ma, ripeto, dal punto di vista tecnico della giocata, questo tipo di passaggio, secondo me, ancora non è nelle sue corde. Qualcosina, ovviamente, ha fatto vedere, ma questa, semplicemente, vuole essere un incoraggiamento, una critica costruttiva. Con i ragazzi non mi piace mai essere troppo duro, parliamo di difetti quando analizziamo giocatori di 28 anni, in questo caso, una caratteristica che, andando a limare, secondo me, lo renderebbe ancor più succulento per qualsiasi squadra. Ancora giovane, abbiamo parlato di quello che ha fatto, abbiamo parlato di un probabile potenziale, tutto ciò fa parte della mia analisi. Come sempre, vi aspetto qui in basso nei commenti, per conoscere le vostre letture. L'analisi di oggi finisce qui. Come sempre, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate un like e condividetelo se vi va. È stato un piacere enorme passare questi minuti con voi. Un salutone e al prossimo appuntamento. Mesi, mesi, sul gruppo Telegram. E il diablito di qua, il diablito di là. Dai, dai, però bravo, interessante, deve continuare così, non deve perdersi.